In realtà ero stato anche poi una settimana fa a fare tutto un giro partendo da Piazzetta a Sartori, passando per Piazza Gasparotto, facendo un po' di giro tutte le piazze e terminando poi in stazione verificando anche il punto scommesse, quindi già anche la settimana scorsa abbiamo fatto questo giro complessivo. Ieri siamo tornati, ho parlato anche con i baristi che si erano lamentati, in realtà poi loro nonostante quello che ha scritto qualche giornalista non hanno confermato in maniera così piena la versione che è stata riportata in un giornale in particolare. Io comunque ho verificato una situazione che ritengo migliore rispetto a quella dello scorso anno perché abbiamo riportato la viabilità davanti alla stazione che penso che questa sia stata una scelta importante e fondamentale è noto e si verifica a vista d'occhio il cambiamento. C'è ancora la presenza, ma solo in alcuni orari, cioè più verso sera che durante il giorno, di persone che sono dedicate o allo spaccio o sbandati che bevono, ne abbiamo visti anche ieri alcuni con delle bottiglie, ci siamo avvicinati e gli abbiamo fatto buttare le bottiglie ovviamente siccome non è permesso all'interno dei cestini. Abbiamo verificato anche assieme col comandante di Polizia Municipale e con l'assessore Saia che possono essere effettuati degli altri interventi per dare trasparenza al piazzale della stazione, cioè verranno rimossi tutti i cartelli pubblicitari che ci sono nelle varie pensiline e verranno rimossi anche i cassonetti per i rifiuti e quegli spazi che sono stati creati per mettere i cassonetti dove si nascondevano, dove possono nascondersi magari gli spacciatori, dove possono nascondere le dosi di droga e dopo possono andare a urinare perché questo è un altro problema che c'è nella stazione. Quindi una serie di interventi. Abbiamo verificato anche un tema importante, io emetterò un'ordinanza nei prossimi giorni per la limitazione dell'orario per i distributori automatici, perché c'è anche il tema di quel distributore automatico che è proprio di fronte alla stazione aperto 24 ore su 24, quindi anche là metteremo una limitazione 8 della mattina fino alle 18-20 di sera, quindi alla notte sarà poi chiuso, perché ovviamente se ci sono distributori automatici aperti possono formare dei crocicchi di persone. Quindi faremo degli interventi fisici, dopodiché siccome il tema è dalle ore 18-19 in poi ci stiamo organizzando e questo lo faremo in collaborazione anche con le altre forze dell'ordine in modo che siano sempre presenti delle pattuglie anche la sera e durante la notte. Cioè quello che possiamo fare è presidiare il posto e vi dico, ci stiamo lavorando però non posso ancora indicarvi quale sarà il posto, stiamo lavorando perché io penso che davanti alla stazione deve esserci un presidio della Polizia Municipale, quindi stiamo lavorando per portare almeno un presidio con una trentina di uomini, capite poi uomini e mezzi proprio davanti alla stazione anche vicino a via Bixio e via Cairoli, capite che un presidio in quelle zone là può essere un utile deterrente. Anche se devo dire molte persone che si sono avvicinate ci hanno detto che la situazione è nettamente migliorata rispetto allo scorso anno, però non bisogna comunque desistere, vogliamo eliminare anche le ultime sacche che ci sono di sbandati e lazzaroni che girano intorno non solo alla nostra stazione ma in tutte le stazioni.